Uno spettacolo di Eleonora, Montagnana, gaminista, con oltre 29 milioni di visualizzazioni su TikTok. Lo spettacolo si aprirà con una introduzione di Paganini per annunciare la partecipità a casa della salute e il comune di generale per soffortare la 57esima edizione del concorso internazionale, Dremo Paganini. Signori e signori, per voi, Eleonora, Montagnana! A casa della salute investe nel talento, inteso con la capacità, passione e empatia. Crediamo nei giovani e sentiamo la responsabilità di creare per loro opportunità di crescita, sosteniamo col tuo male e da oggi anche il grande palazzo, signora internazionale della capacità. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!